Tradizione del Festival è avere un tema di grande attualità e anche quest'anno si è deciso di trovare un qualcosa attorno a cui coagulare un viaggio nel tempo tra passato e presente, tra antico e moderno. Ci è sembrato il consenso un tema di fortissima attualità, sia dal punto di vista sociale, dal punto di vista mediatico, dal punto di vista sociologico potremmo anche dire, e ovviamente dal punto di vista politico. Si può fare cultura in maniera leggera senza utilizzare linguaggi estremamente specialistici e per questo abbiamo voluto a nostro fianco ospiti capaci di comunicare questo, da Lorenzo Pavolini e Francesco Filippi, da Paolo Rumiz a Filippo Ceccarelli, da storici dell'arte come David Exerjan e Giovanni Villa, a grandi cattedratici come Giovanni Brizzi, Gino Bandelli, la professoressa Muzzarelli. Insomma, un insieme di personalità molto forti e molto capaci di comunicare in questo modo. Siamo convinti che la cultura si faccia da seduti, diciamo così, cioè ascoltando, ma la cultura si fa soprattutto e si assorbe meglio guardando e facendo. Quindi le visite guidate porteranno i riminesi e i non riminesi, perché appunto ci sono percorsi anche esterni, alla città, a conoscere appunto meglio la città e dall'altro i più piccoli a fare cose per imparare anche la storia.